L'attesissimo nostro appuntamento, veramente molto atteso per questo, voglio ringraziarvi, dedicato all'aspettare Fiera Cavalli all'insegna della sicurezza, oggi vi propone una declinazione importantissima, sicurezza di persone e cavalli. E' il tema di questa nuova tappa di avvicinamento che come avete capito e avete visto attraverso dei podcast, attraverso dei post, attraverso anche i social e i siti, ricordo che andiamo anche sul sito della ULS 9 Scaligera di Verona, è una tappa di avvicinamento a Fiera Cavalli molto importante. La manifestazione è leader nel settore, avrà luogo, lo ricordo, nel quartiere fieristico di Verona dal 9 al 12 novembre, ospiti oggi insieme all'avvocato Alberto Franchi, che ricordo essere consulente in tema di sicurezza per Fiera Cavalli, e mio accompagnatore non soltanto in questa pubblicazione ma in tutte le pubblicazioni straordinariamente da voi seguite di My Generation Safety, saranno l'architetto Federica Crestani, che collabora con Fiera Cavalli rispetto a questa tematica, l'architetto dice che è anche capace di layout e di disegni, ed è quello che noi soprattutto oggi con lei potremo fare, e la affiancherà anche la dottoressa Maria Baleri, che è consulente proprio presso Fiera Cavalli. Il loro compito oggi è illustrare il nuovo modello ORS Safety System, pensato, studiato e sarà anche applicato dallo studio dell'avvocato Alberto Franchi insieme a tutti coloro che collaborano con questo progetto straordinariamente innovativo e nuovo, in base oggi alle esigenze di Cavalli e di visitatori, capite dunque l'importanza della nostra pubblicazione Sigla. E allora, mentre chiedo all'architetto Crestani di richiamare accanto a sé anche la nostra ospite, perfetto Maria, perché sei lì, Maria Baleri, tutti adesso vi ho davanti e posso presentarvi, dando il benvenuto all'avvocato Franchi, all'architetto Federica Crestani e alla dottoressa Maria Baleri. D'ora in avanti ci dimentichiamo dei dottori, degli avvocati e degli architetti e andiamo subito al sodo come pretende la nostra pubblicazione in web. Allora, a questo punto richiediamo a Maria di lasciare il campo all'architetto, ma partiamo subitissimo con l'avvocato Franchi. Quindi, cara Federica, rimani in ascolto di quello che viene detto perché poi tocca a te. Allora, a questo punto, togliendo l'architetto Crestani, dando la parola quindi all'avvocato Franchi, entriamo proprio nel merito. Di questo Ors Safety System si sta già parlando, avvocato. Vuol dire che stiamo colpendo il segno? È contento di questo? Molto contento, direttore, certo. È frutto di un lavoro importante che abbiamo sviluppato, ma adesso le dirò. Allora, entriamo subito nel merito dicendo allora il valore, il senso, l'entità di questo progetto Ors Safety System. In che cosa lo facciamo consistere? Allora, direttore, io volevo fare una permessa. Questa iniziativa nasce dal dottor Armando Di Ruzza, responsabile della Fiera Cavalli, event manager della Fiera Cavalli, il quale chiede al mio studio professionale, naturalmente con la collaborazione della validissima architetto Federica Crestani e corresponsabile a Fiera Cavalli, dottor Possagno, di redigere un progetto che potesse essere relativo a un miglioramento della già presente sicurezza nella fiera, ma attinente alle tematiche non solo, direttore, sicurezza in senso lato della Fiera Cavalli, quindi intendo visitatori animali, ma anche sulle tematiche ambientali ed aggiungo, da ultimo, sulle tematiche del benessere degli animali. Questa è la premessa necessaria alla nascita del sistema Ors Safety System, così come richiesto dal dottor Armando Di Ruzza. Detto questo, entrando nel merito, allora, Avvocato, le normative, se si possono chiamare così, che sono nell'ambito del vostro progetto, toccano un tema molto sensibile, che è quello del codice etico di questo progetto. Se si ricorda, nella passata pubblicazione, lì ci fermammo, dandoci come compito, come impegno, quello di poter proseguire oggi. Intanto, cosa si intende per codice etico di questo progetto e su quali normative lo facciamo poggiare? Questa è la domanda, eh? Il sistema Ors Safety System è stato creato sulla base di alcuni pilastri, che sono il codice etico di manifestazione, dottor Capitini, il comitato di indirizzo e scientifico e, da ultimo, l'unità di crisi. Che cosa sono ciascuno delle figure che ho poc'anzi menzionato? Il codice etico della Fiera Cavalli non è altro che un codice di manifestazione, una regolamentazione dei valori riconosciuti da tutte le parti che partecipano, diciamo così, alla Fiera Cavalli, naturalmente condivise al fine di promuovere una sana interazione uomo-animale e volti e principi alla tutela e al rispetto dell'animale inteso quale essere senziente. Questo è il codice etico, quindi un insieme di norme che vadano a regolamentare i criteri di eticità, cioè di moralità della manifestazione. Si aggiunge il comitato di indirizzo e scientifico con il compito di formulare proposte, pareri e proporre raccomandazioni affinché vengano segnalate eventuali violazioni al codice etico. Del comitato di indirizzo fanno parte alcune figure professionali, al comitato scientifico invece fanno parte prettamente delle figure tecniche, per esempio le figure dei veterinari. L'unità di crisi, da ultimo, è l'organo e sarà decisorio sulle violazioni che verranno eventualmente perpetrate da coloro i quali parteciperanno alla manifestazione e deciderà, i componenti sono 5 e 6, tra i quali è presente il sottoscritto, l'architetto, la dottoressa Valeri, sulle quali, diceva, unità di crisi decideranno sulle sanzioni da erogare nel caso vengano violate queste norme. Magari, avvocato, sul tema dell'unità di crisi potremmo tornare perché è molto importante. Mi faccia fare una postilla molto semplice e chiara. Quando l'avvocato Franchi, amiche e amici che siete all'ascolto, vi parla di normative, vi parla di codici, attenzione, una volta tanto in Italia non è burocratese o burocrazia, perché tutto ciò è declinato al servizio della sicurezza, che è la grande, la grandissima novità di Fiera Cavalli di quest'anno, giustamente, come ricordava l'avvocato Franchi, voluta dal event manager Armando Di Ruzza. Quindi portate pazienza se la terminologia è ancora quella antiqua, però la declinazione è quella moderna, perché non c'è oggi problema, tema, più moderno e contemporaneo che la sicurezza. Ci tenevo a dirvelo. E a questo punto pongo l'ultima domanda di questa prima parte della nostra conversazione all'avvocato Franchi, chiedendo all'avvocato di entrare nel merito delle misure di sicurezza per il pubblico. Altro attenzionamento importante, espressamente voluto da Armando Di Ruzza, è che lei adesso ci può declinare. Il tutto poi si concretizza in alcune disposizioni molto precise, ben concordate con la collaborazione assolutamente fondamentale dell'architetto Cristani, ma anche della dottoressa Valeri, figure chiave nell'ambito di Fiera Cavalli. Per cui tutte queste norme che abbiamo detto, poc'anzi menzionato, poi si concretizzano in norme molto semplici. Vi faccio un esempio. L'architetto Cristani ha redatto insieme al dottor Possagno e con la mia tra virgolette supervisione un infamoso law safety loop, naturalmente ve lo descriverà l'architetto, che consente di far sì che i cavalli possano sgambare oggi per la prima volta, a differenza di tutte le altre manifestazioni, in assoluta sicurezza all'interno della fiera, tant'è vero che sono state previste delle altre anzende, che non ostacolano in alcun modo la vicinanza col visitatore. Quindi abbiamo un grande percorso, un bellissimo percorso, ve lo illustrerà l'architetto, la possibilità che il visitatore si avvicini, ma la sua presenza al cavallo non sia resa pericolosa. Poi abbiamo ulteriore intervento normativo, per cui saranno vietati sempre per la prima volta il transito delle carrozze e cavalli, che transitavano una volta, a volte a velocità eccessiva, quindi creando potenzialmente una pericolosità per il visitatore, ma si aggiunga a questo anche un'unità mobile veterinaria, nel caso di un fortunio del cavallo, e da ultimo un rivestimento del fondo, del box cavalli all'interno dei paviglioni. Quindi in sintesi queste, ma l'architetto sarà in grado, molto meglio di me, di descrivervi quelle che sono le migliori. E allora a questo punto conviene, avvocato che noi richiamiamo alla nostra attenzione, l'avvocato Crestani. Perdonerà avvocato allora se diamo il primo piano alla nostra gentile ospite, alla quale va subito fatta la prima domanda, architetto, nel ringraziarla per aver accettato il nostro invito di oggi. Onore mio. Lo sviluppo di questo progetto, un progetto straordinario, questo Dior Safety System, dal punto di vista logistico, introduciamolo, questo qua, in qualche modo, sapendo che potremo utilizzare anche un video a supporto di quello che lei dirà. al punto che io addirittura mi tolgo e le lascio il pieno schermo per ogni tipo di delucidazione. La ringrazio. Come già aveva anticipato l'avvocato Franchi, il Safety System è composto da vari pilastri, il Safety Loop appunto è il pilastro tecnico-logistico. Adesso andrà in onda il filmato, così potremo meglio capire i vari punti. Il progetto ridisegna completamente l'area fieristica, integrando appositi percorsi che fanno appunto interagire la movimentazione dei cavalli rispetto al flusso del pubblico, eliminando tuttavia tutte quelle aree di possibile interferenza e promiscuità che possono eventualmente causare incidenti. Ecco qui vediamo uno zoom nell'area d'ingresso, nell'area centrale esterna d'ingresso, dove in rosso sono segnati due dei principali punti del Safety Loop. Questo ring ad anello, di movimentazione ad anello, che sarà dedicato particolarmente alle famiglie e ai bambini, e invece la parte più a sinistra di questa slide, del Safety Loop, che collega il padiglione 9, 10 e 12 all'area esterna delle animazioni. Ecco qui vediamo che il percorso, che niente non è che tutta una serie di perimetro composto da transgene graficizzate, va a culminare con un ring, a cui attorno i visitatori possono disporsi proprio per poter interagire e vedere i cavalli da vicino, nonostante possa essere fatto tutto in completa sicurezza, sia per quanto riguarda la sicurezza del pubblico che per la tutela del benessere animale. Quella che vediamo in giallo, invece, è un'area di scudelizzazione che è completamente interdetta al pubblico, dove i cavalli dopo un certo punto vanno a riposare e non devono essere disturbati. Ecco questo è un po' un quadro generale. Pare che, posso dire tranquillamente, architetto, che la sua illustrazione è stata macroscopicamente molto pulita, molto chiara. Immagino che durante queste nostre pubblicazioni avremo vodo altre volte di tornare su queste planimetrie, ma intanto abbiamo asservito al compito di chiarire un attimo le nuove planimetrie di Fiera Cavalli. Entriamo nel merito e permette io le chieda le migliorie e le differenze, anche perché no, tecniche rispetto alle precedenti edizioni. Non perché si sia lavorato male nel passato, ma perché andare a sottolineare le differenze rinforza, appunto, secondo me, le migliorie. Ancora una volta, quindi, le do la parola. La ringrazio. Devo dire che dal punto di vista proprio tecnico e compositivo dello spazio, quest'anno c'è stata davvero particolare attenzione al ridisegno delle aree. Non che non si prestasse, ovviamente, attenzione nelle edizioni precedenti, ma diciamo che il taglio era più commerciale e fieristico. Oggi la nuova edizione di Fiera Cavalli nasce proprio con un concept di un parco. Se si è visto, nelle planimetrie non c'è più una disposizione schematica, diciamo, delle varie aree, dei vari espositori e delle aree animazioni, ma tutto nasce, appunto, generato da questo percorso che prende vita dall'ipotetico percorso emozionale dell'evento da parte del visitatore. Ecco, diciamo che partendo proprio da questa esigenza di sicurezza, si è voluto dare questo taglio particolarmente estetico anche al disegno delle aree esterne proprio per non dare questo senso di chiusura che poteva essere generato da un'eventuale idea rigida di sicurezza. Ecco perché l'idea appunto di creare questo ring con le aree dei bambini, creare queste zone più verdi rispetto al passato, quindi inserire anche gli espositori nelle aree esterne, magari in queste zone verdi, il tutto per dare ecco maggior qualità anche a livello esperienziale. Un'altra differenza importante rispetto alle edizioni precedenti è anche il trattamento delle aree food. Ecco, diciamo che c'è una particolare attenzione al ridisegno di queste aree che vengono unite principalmente attorno a una nuova food court e questo impedirà la creazione di pericolose colonne e file che potevano in passato magari interferire con i percorsi dei cavalli. Quindi diciamo che sarà tutto lo ordine è la parola chiave, ordine e qualità. Bene, che non va mai male sia abbinato anche a un discorso come lei ha detto architetto estetico. Allora, mentre richiamo all'ordine l'Avvocato Franchi permetto alla dottoressa Baleri di poter prendere posto ringraziando di conseguenza l'architetto Cristani che sicuramente recupereremo ancora strada facendo nelle tante puntate che abbiamo. Grazie. Andiamo con l'Avvocato Franchi a capire intanto come si sta delineando bene mi pare la nuova planimetria. Vero, Avvocato? L'architetto ha fatto un lavoro eccelso il layout è particolarmente ammiccante è stato veramente ridisegnato tutto il progetto in 3D e quindi, ripeto, non è solo il dato estetico è certamente importante ma si sono tenute conto di tutte le normative sulla sicurezza dei luoghi di lavoro quindi la normativa del riferimento è il decreto legislativo 81 del 2008 e di questo insieme naturalmente al responsabile Oltreo Possagno si è tenuto conto quindi non è solo bellezza tanta bellezza ma c'è anche sostanza questo tenevo a dirlo certo, certo molto bene Avvocato non sabbia male ma è imperativo devo dare la voce adesso alla dottoressa Valeri che andiamo dunque a richiamare in questa giravolta di presenze benvenuta allora Maria benvenuta davvero ricordiamo consulente proprio presso Fiera Cavalli alcune domande sono ben precise per lei dottoressa la prima è questa le misure per la tutela del benessere animale quali può già elencarci dicendo già agli amici che sono all'ascolto che faremo una puntata apposita con i veterinari dell'azienda ULS9 per entrare ancora meglio nel merito il tema è molto sensibile ma intanto diamo la parola a Maria grazie grazie e buongiorno a tutti allora visto che partiamo con la citare la ULS9 già dallo scorso anno con la ULS9 abbiamo istituito un check-in online veterinario in modo che tutti i proprietari dei cavalli possano registrare i loro equidi direttamente nel sito della ULS e quindi evitare di fare code chilometriche all'arrivo e già questa è una delle grandi precauzioni una delle grandi migliorie che abbiamo fatto proprio per permettere a cavalli che già hanno affrontato un viaggio lungo di entrare velocemente in Fiera altro aspetto importantissimo è il fatto che la pavimentazione di tutti i padiglioni in cui ci saranno box cavalli verrà completamente ricoperta da una mochetta antiscivola una mochetta gommata anche all'interno del box stesso proprio per evitare che il cavallo possa scivolare nel transito dal corridoio al box e dal corridoio al ring dove si deve esibire vi ricordo che all'interno di Fiera Cavalli noi abbiamo 12 padiglioni attivi e 4 aree esterne e abbiamo ben 26 ring quindi campi in cui i cavalli si possono movimentare in cui si possono esibire in piena sicurezza l'altro grande cambiamento che Fiera Cavalli metterà a disposizione degli allevatori e dei cavalieri è questo percorso protetto all'interno del quale i cavalli si potranno spostare tra i vari padiglioni e raggiungere o il ring esterno di movimentazione o il grande ring che quest'anno sarà in area D dove poter fare animazioni spettacoli e presentazioni di razze quindi tutti i cavalli si potranno muovere in sicurezza pur permettendo al pubblico di essere visibili ovviamente ci sono anche cavalli che non escono dal loro padiglione citiamo per esempio i cavalli che partecipano alla finale del circuito allevatoriale quei cavalli rimangono all'interno del loro padiglione ma sono visibili nei momenti in cui ci sono proprio le competizioni le finali che ricordo cominciano il giovedì e finiscono la domenica sera importantissimo dire anche questo assolutamente importante Maria la cortesia di far avvicinare nuovamente l'architetto Cristani per il saluto finale se è ancora eccola lì avvicinatevi un po' tra di voi in modo che io posso farvi inquadrare per bene ecco perfetto a questo punto ricordando il tema nostro che era sicurezza di persone e cavalli faccio un'unica domanda che vorrei l'avvocato Franchi in qualche modo esaudisse perché l'auspicio che vi fate nel momento in cui siamo in percorso in avvicinamento come dice il titolo dei nostri post dei nostri podcast aspettando Fiera Cavalli quale auspicio vi fate rispetto alla nuova percezione di questo evento che vorreste abbia il pubblico il grande pubblico che sarà presente stamane il dottor Di Ruzza ci dava anche una gran bella notizia avvocato e cioè le regioni in massa quest'anno saranno nuovamente presenti a Fiera Cavalli Cavalli e ci piace darla questa informazione perché significa empower compliance anche con la nostra regione Veneto e con tutte le altre regioni d'Italia perché Fiera Cavalli è una manifestazione nazionale e internazionale ecco l'auspicio che vi fate rispetto alla percezione da parte del pubblico che quest'anno ci sono delle novità mi dica avvocato allora l'auspicio ovviamente è quello che non si verifichi di alcun evento infortunistico ma detto questo questo progetto che è assolutamente innovativo grazie alla collaborazione di questi professionisti quindi dottor Ammano Di Ruzza architetto Crestani dottore Savaleri dottor Possagno che tutti insieme noi possiamo creare poiché siamo i primi in Italia possiamo indurre il visitatore e accrescere la sensibilità a quello che è il sistema prevenzione degli infortuni credo che nel mondo oggi sia un tema di assoluta attualità tutti noi ne abbiamo contezza delle notizie quotidiane quindi essere partiti per primi in questo progetto significa auspicare che non solo la Fiera Cavalli ma il mondo intero del cavallo accresca questa sensibilità a un tema così delicato ci facciamo nostro il vostro auspicio e il vostro augurio vi diamo appuntamento per altre eventuali interviste e pubblicazioni sempre al servizio di un'informazione congrua puntuale rispetto a quello che reputiamo essere davvero un tema molto importante perché questo modello che parte da Verona può diventare un modello nazionale e perché no anche transnazionale diciamolo sottovoce al momento ma tutti noi che partecipiamo a questa idea a questa progettualità nel cuore lo abbiamo sicuramente grazie agli amici che sono convenuti a tutti coloro che ci stanno vedendo alla prossima sigla finale grazie 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 a tutti